Buonasera, vediamo un semplice esempio di uso di Blender in cui useremo una caratteristica di Blender che non è molto conosciuta che si chiama Linset costruiremo una specie di casa e lo faremo grazie anche a un tutorial che ho trovato su internet di cui metterò poi il link sulla descrizione e comunque cominciamo, quindi sarà semplicemente un piccolo caseggiato quindi una casa con un tetto fondamentalmente però vedremo che ci sono alcuni artifici più che artifici, insomma, delle piccole trick che sono interessanti allora, cominciamo con il cubo che facciamo, quindi selezioniamo tasto destro il cubo lo cancelliamo non dite che non vedete quali tasti premo perché a questo punto li ho fatti enormi quindi shift A e inseriamo un piano si può darsi che in effetti sia un pochino grosso quindi prendiamo il testo qua e facciamo 100 ok, facciamo un pochino più piccolo allora, facciamo un piano quindi, ad plane ecco, l'abbiamo messo lì il piano che non è il centro quindi, visto, questo è successo perché ho cliccato col tasto sinistro in giro per il mondo e non andava bene però è possibile, adesso lo vediamo spostare l'oggetto quindi facciamo lo snap selection dunque, quindi cosa facciamo? ah, sì, dobbiamo azzerare praticamente le coordinate quindi facciamo clear location alt G vedete che avendo fatto clear location quindi alt G abbiamo messo e siamo tornati a una situazione sana cioè l'oggetto l'abbiamo messo esattamente al centro degli assi coordinati nulla di speciale non è che se l'oggetto sia distante cambi molto però per pulizia è anche così abbiamo capito anche come si fa è interessante allora, premiamo 7 il tastellino numerico e vediamo il nostro oggetto dall'alto e, allora, il nostro obiettivo è quello di fare la pianta di una casa che si va su e poi gira e fa quindi un casiggiato che fa una piccola una specie di angolo una L rovesciata allora, per farlo cosa facciamo? ne stendiamo lungo la freccia verde la freccia verde ricordiamo che è la Y perché è la rossa X la freccia verde è Y quindi facciamo S Y e prolunghiamo magari con un control in modo tale da essere allineati e facciamo una ecco, ci avviciniamo e diciamo che questo qui è una parte del caseggiato della pianta a questo punto vogliamo estendere lungo questa qua quindi vogliamo fare una L fatta così e lo facciamo aggiungendo praticamente un taglio questo taglio per aggiungerlo andiamo innanzitutto in Edit Mode quindi facciamo Tab quindi siamo andati in Edit Mode e a questo punto facciamo dunque facciamo A deselezioniamo tutto e facciamo CTRL-R CTRL-R praticamente vedete che mentre premiamo CTRL-R potrebbe non succedere niente ma se ci avviciniamo a un segmento a una linea vedete che compare questo segmento viola allora clicchiamo col tasto sinistro e poi niente scusate CTRL-Z rifacciamo CTRL-Z clicchiamo e poi lo alziamo magari usiamo sempre il CTRL per allinearlo esattamente alla grid vedete che è allineato e quindi abbiamo ottenuto una divisione a questa altezza poi selezioniamo i segmenti quindi questo selezioniamo questo segmento di destra e lo estendiamo con Estrude E lungo la X e lo estendiamo per fare diciamo un'estensione qua facciamo sempre CTRL per avere le dimensioni esatte ok quindi abbiamo praticamente la pianta dell'edificio a forma di L rovesciata bene ora altro trucco interessante è che vogliamo fare in modo tale che qui ci sia un segmento qua no? cioè quindi vogliamo fare in modo tale che questo in realtà quello che si vuole ottenere è di fare in modo tale che questo questo e questo punto coincinano tutti là in questo modo avremo un taglio unico qua come facciamo andiamo a selezionare il punto modalità di selezione punto selezioniamo uno con lo shift proviamo anche questo shift questo abbiamo selezionato vedete tre punti l'ultimo punto selezionato è in bianco e facciamo con W vediamo che c'è merge potremmo fare anche alt M quindi facciamo escape alt M e vedete che abbiamo che vogliamo mergiare mergiare vuol dire fondere vengiamo verso l'ultimo punto quindi tutti i tre punti si immergono insieme in fondo e così abbiamo ottenuto questa specie di squadra ok allora a questo punto premendo il tastino centrale del mouse e muovendo vedete che ci rendiamo questo qui è la base abbiamo detto del caseggiato allora facciamo A quindi selezioniamo tutto e cerchiamo di estrudere verso l'alto per comporre il corpo del caseggiato quindi facciamo E e poi vedete che già facendo E senza fare niente si estende lungo la perpendicolare e va bene quindi la estendiamo magari con control in modo tale da farla di altezza diciamo concordata e poi accettiamo con invio mettiamo qua o con il tasto sinistro del mouse vedete che abbiamo fatto già una casa magari forse è perfino troppo alta quindi facciamo leggermente più bassa comunque non è importante ok ora a questo punto entra in gioco il discorso di fare il tetto allora per fare il tetto iniziamo a usare questa tecnica interessante che si chiama Inset cioè praticamente selezioniamo come abbiamo visto adesso vedete che si sono selezionate tutta la parte di sopra della struttura e noi cosa facciamo facciamo un proviamo a farlo ma si estrudiamo questa cosa ok e poi confermiamo allora facendo così facendo un estrude più un invio abbiamo di fatto duplicato questa struttura ah no però aspettate facciamo contro Z scusate la cosa quindi ci troviamo facciamo direttamente l'inset inset vuol dire premere i e poi praticamente dobbiamo avvicinare il vedete che avviciniamo l'inset vedete che fornisce questo tipo di lavoro in cui il il perimetro diciamo viene ristretto e viene ristretto formando una sorta di cornice ok quindi questa cornice che noi abbiamo fatto possiamo a questo punto alzarla e vedete che arriva già una specie di tetto che però ha un problema che non è proprio un tetto quindi dobbiamo avvicinare le varie parti quindi come facciamo avvicinare le varie parti semplicemente selezioniamo i segmenti e selezioniamo i segmenti corrispondenti al primo tetto questo e poi li avviciniamo lungo la freccia rossa quindi facciamo scalatura S X e poi avviciniamo questi punti in modo tale da avere il nostro tetto che si avvicina magari facciamo così mettiamo il mouse un pochino più lontano S X e così possiamo avvicinarlo più comodamente un lavoro simile lo facciamo anche sull'altro pezzo di tetto in questo caso facciamo S Y S Y e lo facciamo più o meno giusto così così vedete che abbiamo già ottenuto una struttura diciamo di casa quindi con tetto eccetera dunque il senso di questo piccolo tutorial era quello di farvi vedere come appunto riusciamo a fare una struttura come una specie di caseggiato senza colpo ferire cioè quindi praticamente con pochi passaggi e usando appunto questo benedetto inset ora prima di andare avanti vediamo anche un attimo vediamo un po' di fare un po' un effetto grondaia più marciapiede insomma cioè che sono un po' le cerchiamo di creare praticamente una struttura leggermente meno banale ok allora per farlo andiamo a selezionare le facce selezioniamo con shift e poi con shift tasto destro quindi tasto destro poi shift tasto destro andiamo ad aggiungere sempre con shift tasto destro tutte le facce laterali ok quindi abbiamo evidenziato in questo momento le cosa sono 6 5 insomma le facce che compongono questa cosa e noi adesso facciamo sempre inset inset come ho detto che è questa bellissima funzione facciamo inset e poi premiamo control control permette di fare questo effetto che vedete cioè che praticamente si rattrappisce praticamente lungo tutti gli assi e così abbiamo ottenuto praticamente le grondaie della casa e questo è già una cosa notevole ora il tutorial di cui ero partito faceva poi una porta le finestre eccetera ma per i miei fini che era quello di ottenere una figura appena appena non banale mi fermo già qua ok questo qui è già una figura non banale che poi useremo nei prossimi tutorial per importarla su second life eventualmente per farci alcune cose ok quindi riassumendo cosa abbiamo fatto qui abbiamo semplicemente partendo da un piano l'abbiamo esteso poi abbiamo fatto una alt r per raggiungere un segmento e questo segmento ci è servito per base per estenderlo poi con la e estruderlo per ottenere praticamente la parte di destra questa qua poi abbiamo di fatto ottenuto questo diagonale unendo i due segmenti facendo un merge di 1,2,3 punti sull'ultimo punto centrale dopodiché abbiamo portato in su con estruder di tutto e abbiamo ottenuto praticamente un poco più di un parallelipipedo e poi abbiamo lavorato sul tetto facendo un inset che ci avvicinava un po' e ci produceva praticamente queste facce in più che erano quelle del tetto le abbiamo alzate e poi abbiamo lavorato con l'SY SX 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 in modo tale da appuntire il tetto e infine abbiamo poi usato sempre l'inset ma con l'opzione control quindi selezionando tutte le pareti al perimetro di questo oggetto abbiamo fatto un inset verso l'interno quindi avvicinandoci poi con il mouse e questo è quello che abbiamo ottenuto se facciamo F12 vedrete che adesso si vede appunto una struttura un po' un giocattolo però adesso poi ci lavoreremo sopra e vedremo che proveremo a importarla su Second Life vediamo di farci eventualmente un buco per poterci viaggiare dentro per vedere quali sono le trappole dell'import in Second Life faccio notare che tutta questa struttura in questo momento sta occupando 30 vertici 28 facce che è una quantità veramente ridicola si poi chiaramente se si cominciano a mettere le finestre e le porte i vertici vanno su però diciamo se questo dovesse essere un pezzo di caseggiato in una città ad esempio potrebbe anche starci ok quindi questo è tutto per questo primo spezzone del video ci vediamo al prossimo